Guardate qua che meraviglia fanciulli! Questo è un insetto stecco del Mediterraneo, probabilmente Bacillus rossius Guardate che bello! Possono essere di colore verde, per imitare i ramoscelli verdi delle piante, o addirittura marroni E sapete la cosa straordinaria? E che nell'Italia centro-settentrionale, tutti i Bacillus rossius, tutti gli esemplari di insetto stecco che possiamo trovare Sono tutte esclusivamente femmine E come fanno a riprodursi, dite voi? Beh, hanno una tattica biologica molto particolare che si chiama partenogenesi Praticamente le femmine depongono delle uova già fertili, non hanno bisogno del maschio E più femministe di così, ecco, è veramente meraviglioso Sono creature che si chiamano fasmidi, perché sembrano proprio dei fantasmi Guardate, guardate come ha allineato le sue zampe anteriori per sembrare ancora di più uno stecco E guardate qua la cosa fighissima Cerca di vibrare Imitando il movimento dei rami mossi dal vento Veramente una creatura criptica e fantastica Bellissima